e per farlo pensai di fargli intendere che non era solo un'esercitazione. Questa spinta funzionò e nacque così il prototipo di Pong. Quando creai la prima versione del gioco, Lolan mi disse che doveva avere anche degli effetti sonori, aggiunse che doveva esserci il fragore del pubblico, o sannante in caso di vittoria o tutto fischi e boo in caso di sconfitta. Non avevo la più pallida idea di come realizzarlo. Avevo superato abbondantemente il mio budget e avevo già inserito troppi chip in quell'affare, così mi limitai a giochicchiare con un piccolo amplificatore, trovando dei suoni più o meno adatti, che riuscì a far entrare in meno di mezzo chip. Consegnò il prototipo funzionante in soli tre giorni. Non ero poi così sorpreso, era bravissimo. Poi apportammo una piccola modifica facendo in modo che la pallina, una volta toccati diversi segmenti della racchetta, cambiasse direzione. Così il gioco da noioso e ripetitivo divenne un gioco da sballo. Quel piccolo cambiamento modificò completamente la giocabilità di Pong. Quando la Atari mise sul mercato Pong nel 1972, nacque l'industria dei videogiochi. Pong fu l'inizio di tutto. Era il primo videogioco che la gente poteva utilizzare in casa, invece che in qualche laboratorio. Scressi le prime istruzioni per Pong. Primo passo, aprire la partita. Secondo passo, la palla si serve automaticamente. Terzo passo, evitare di mancare la palla per ottenere migliori punteggi. Era un gioco semplice. Tutti noi che abbiamo vissuto quel periodo ci ricordiamo della nostra partita a Pong come altri ricordano l'assassinio di Kennedy. Avevamo il potere del pixel. Stasera non guardate la tv. Giocatici. Avevamo un pub a Liverpool, in Inghilterra. Un giorno mio padre arrivò con un grosso oggetto che un paio di tizi portarono fino al bar. Era molto grosso, così. Si trattava di Pong, il predecessore di tutti i videogiochi. La cosa curiosa era che Pong era pensato per due giocatori. Era necessario essere in due per giocare. Non lo si poteva fare da soli. Pong era la versione moderna del gioco carta, sasso, forbice. Era un altro modo per sfidarsi tra amici, per dimostrare di essere il numero uno. E' stato l'inizio dell'emancipazione delle donne. Le donne e tutte le altre minoranze hanno deciso che è il momento di alzarsi e dire insieme basta. Forse gli uomini non sono ancora pronti, ma la rivoluzione è già iniziata. Le donne americane sono scese in piazza. Era accettabile per una donna emancipata entrare in un bar e dire tranquillamente Vuoi giocare a Pong? Pago io. Le donne hanno una migliore coordinazione della muscolatura minuta, dunque in generale potevano giocare a Pong meglio degli uomini. Per la prima volta le donne potevano sfidare gli uomini alla pari e vincere. Molte donne iniziarono a frequentare i bar e a vincere tornei e a vincere anche scommesse. Credo che Pong sia nato in un'epoca nella quale l'America attraversava una fase molto importante della sua storia, caratterizzata non solo dal Vietnam, ma anche dal Movimento per i diritti civili. Gli anni 70 oggi ci appaiono più frivoli degli anni 60, che furono molto intensi. Non credo che siano stati i videogiochi a creare tale frigolezza, semplicemente hanno rappresentato la tendenza generale a rintanarsi nel chiuso delle mura domestiche, a fare vita sociale in casa e a svolgere attività ludiche. Anche se tutto nel mondo fosse perfetto, resterebbe sempre il bisogno di divertirsi. Il gioco è una componente fondamentale della vita dei mammiferi, di tutte le specie. I cani giocano, le cimie giocano e gli esseri umani giocano. Giochiamo in tutti i paesi del mondo e giochiamo tutti agli stessi giochi. E Gimbotan, Russell, Bear, Bushnell, questi pionieri, consapevolmente o no, incanalarono le nostre paure collettive nelle loro creazioni virtuali. Era evidente che il mondo era stanco e che i videogiochi erano la perfetta arma di distrazione di massa in tutto il globo. Gli primi videogiochi furono dei prodotti collaterali della guerra fredda. Ma in Estremo Oriente i primi videogiochi emersero sulla scia di un conflitto ben più reale, la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki avevano devastato il Giappone, ma le forze alleate parteciparono attivamente alla ricostruzione del paese. La tecnologia divenne rapidamente la chiave del successo del Giappone. Ancora oggi il governo favorisce enormemente lo studio della tecnologia e i giovani giapponesi sono tra i più abili in campo tecnologico. Il Giappone trovò la propria nicchia nell'elettronica, osservò ciò che il resto del mondo faceva e lo fece meglio e la produzione di massa rese più economici i prodotti. Ma le vecchie ferite non si erano ancora rimarginate. Se si osserva la cultura giapponese del dopoguerra, si può notare il riflesso dell'esperienza della bomba atomica in moltissime opere di varie discipline. Godzilla, il re dei mostri, minaccia il mondo schiacciando tutto ciò che incontra. In quel periodo nacquero Godzilla e i film sugli altri mostri. Se si unisce il significato culturale di Godzilla con il potere tecnologico del computer, si ottiene quel genere di fascino che può essere suscitato dai videogiochi. Il Giappone raggiunse i vertici dell'industria mondiale dell'elettronica. Ma nel 1978 Tomohiro Nishikado portò il proprio paese all'avanguardia dell'industria dei videogiochi, inaugurando un'ondata di invasioni digitali, Space Invaders. Avevo pensato a invasori umani, ma l'idea di umani che sparavano da altri umani era stata criticata come inumana. Così pensai che gli alieni avrebbero potuto essere invasori molto più accettabili. Pensando a Space Invaders, agli alieni che scendono dal cielo, non è difficile pensare agli aerei americani che attaccarono il Giappone, sganciando armi di distruzione di massa su civili inerni. La cosa interessante di Space Invaders è che ci ha offerto il primo scenario fantascientifico. È un gioco che ti coinvolge completamente. Sei lì che pensi, ci stanno invadendo. Io quando ci gioco penso a me stesso come all'ultimo baluardo dell'umanità. Space Invaders fece scattare qualcosa nella psiche dei giapponesi. E milioni di adolescenti giocarono tanto da provocare addirittura una penuria di monete da 100 iene in tutto il paese. Il gioco decollò in quel modo fragoroso nel quale una cosa può decollare solo in Giappone. I videogiochi erano qualcosa di nuovo, di diverso. Costituivano un'occasione per uscire di casa e fare qualcosa. In Giappone ciò è particolarmente importante perché le case sono in media molto piccole. In Giappone uscire di casa ha un significato diverso in fin degli Stati Uniti. Ci eravamo ispirati al battito cardiaco umano per creare uno degli effetti sonori del gioco, il tono basso della terra che trema quando si avvicina il nemico. Oggi potremmo creare suoni molto più fedeli, ma a quei tempi, con le tecniche e i mezzi limitati di cui disponevamo, era il massimo che si poteva fare. E non era niente male. Pensate a cosa ha fatto Space Invaders dal punto di vista della musica e dei suoni. In realtà erano appena quattro note, faceva dan, 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 dan. Ma il ritmo era ben studiato e con l'avvicinarsi degli invasori cresceva inesorabilmente, insieme alla velocità degli alieni. Tanto da far precipitare nel panico il giocatore. Era un effetto molto coinvolgente. Per cavalcare quell'onda, i negozianti si affrettarono a fare spazio nei loro esercizi e collocarci macchine per giocare a Space Invaders. L'invasione di Space Invaders creò un gap generazionale nella cultura giapponese. Molte mamme non volevano permettere ai loro figli di giocare ai videogiochi. Divenne un problema sociale perché c'erano ragazzi che rubavano o contraffacevano i gettoni per giocare. Si pensava che i videogiochi fossero un problema grave per l'educazione dei giovani. Penso a ciò che è successo con Space Invaders. Per la prima volta la tecnologia aveva creato un dislivello enorme tra due generazioni. La generazione precedente, che fino a quel momento era stata al passo con i tempi, improvvisamente si ritrovò ad arrancare perché non capiva perché quegli stupidi giochi fossero tanto popolari. In tutto il paese i ragazzi sono travolti dai videogiochi. In America cominciarono a passare diverse ordinanze. Per esempio, si vietò che in una sala giochi potesse esserci contemporaneamente più di una certa quantità di adolescenti. Nacque una nuova cultura. Una cosa che ho sempre trovato triste. Grazie a tutti.